Ciao ragazzi, qui Lele, bentornati al mio canale, eccomi qui con un nuovo video Allora ragazzi, questo video è un video breve, vabbè dico sempre che è breve ma in realtà dopo dura sempre 10 minuti Volevo solo ringraziarvi con tutto il mio cuore ragazzi, veramente, con tutta la mia anima, con tutto quello che ho in corpo Per gli auguri che mi avete fatto su Facebook, per gli auguri insomma ragazzi siete tantissimi, veramente, non so come ringraziarvi Siete veramente straordinari e grazie a tutti ragazzi, un bacione a tutti e veramente grazie di cuore Ci tenevo anche a precisare che il mio nipotino che è appena nato sta benissimo, purtroppo non ho potuto, cioè ci tenevo ragazzi a farvelo vedere Tramite Facebook, tramite il mio gruppo oppure la mia pagina ufficiale Ma giustamente i genitori non vogliono che ho posto foto su Facebook di Filippo, questo è il suo nome Perché appunto è appena nato e giustamente ha bisogno della sua privacy, cioè deve avere la sua privacy Giustamente, anche se ci tenevo ragazzi a farvelo veramente, ci tenevo veramente a farvelo vedere tantissimo Posterò delle foto insieme a lui da mettere sulla pagina e sul gruppo Facebook Quindi spero di farle al più presto possibile ragazzi, anche perché veramente non vedo l'ora che lo vedete anche voi Perché è davvero stupendo C'è la gioia dei miei occhi ragazzi, è veramente stupendo Poi riguardo al video che devo fare appunto chiamato Filippo, per quelli che mi seguono su Facebook lo sanno Comunque vi lascio in descrizione sempre il gruppo Facebook, il link del gruppo Facebook e della pagina ufficiale Su Facebook ovviamente Insomma, quelli che sono già iscritti su Facebook sapranno che dovrò fare un video dedicato solamente al mio nipotino Filippo Ehm... appunto il video si chiamerà Filippo E avrà al suo interno 4 o 5 canzoni 4 o 5 performance Un po' come lo special event della New Era Però sarà fatto ovviamente un po' meglio Cioè, molto meglio, dato che New Era era l'anno scorso E niente ragazzi Questo video si conclude qua Vi voglio solo ringraziare Vi amo con tutto il cuore, veramente Grazie, grazie, grazie Spero che continuate a seguirmi Spero di regalarvi tantissime tantissime emozioni ancora E ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi